Ciao a tutti, oggi proveremo ad insegnare a Perla il comando Zampa dopo averle insegnato quello di seduta. È un comando molto utile sia per giocare insieme al nostro cane che per insegnarle a comunicare con voi e anche per esempio dal colettatore può essere utile soprattutto perché i cocker devono essere talentati molto spesso. Vieni qua Perla, seduta, allora porgete il premio sotto il naso del vostro cane, seduta, seduta Perla, seduta, seduta, ecco al cane verrà naturale sollevare la Zampa per prendere il premio, per aiutarsi a prendere il premio, a quel punto voi direte Zampa, brava, brava Perla vi farete qualche carezza per gratificare il vostro cane. Seduta, seduta, Zampa, bravissima, brava. Mi raccomando, se il cane piuttosto che darvi la Zampa a salta come sta facendo adesso, se non è quello che volete insegnargli, non lo premiate, aspettate che vi dia la Zampa. Vieni qua Perla, seduta, Zampa, bravissima, brava, ottimo. Vieni qua, seduta, Zampa, brava, no, 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 seduta, vieni qua, vieni, seduta, Zampa, bravissima, brava, 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 bravissima. Sì, sono rimaste dove le pizzele. Ne ha detto. Salutiamo tutti. Un basso da Miriam e Perla. Ciao.